Matteo Bellu, coordinatore regionale di Progress, cos'è Sardegna Possibile? Sardegna Possibile è un progetto di governo, è un progetto che ha l'ambizione di governare la Sardegna da un punto di vista diverso, di discontinuità rispetto al passato, quindi governare la Sardegna in una maniera diversa per i sardi, con i sardi, rispetto a quelle che sono stati i governi precedenti, rispetto a quelle che è stata l'autonomia in tutti questi anni. Voi avete come candidato governatore Michela Murgia? Sì, abbiamo come candidato Michela, che è una persona preparata, una persona attenta, è una persona attentissima alle sensibilità che esprime il territorio, alle richieste del territorio. Quello che come coalizione stiamo facendo è grazie agli Open Space Technology. Sardegna Possibile sta elaborando il proprio programma attraverso gli host, in cosa consistono? Allora, l'Open Space Technology, già la parola stessa lo chiarisce abbastanza, sono degli incontri aperti dove dei portatori di interesse si incontrano per determinare quelle che saranno le linee guida poi del programma di Sardegna Possibile. Quelle che sono le idee che escono dagli host entrano a più e pari nel programma. Noi abbiamo organizzato degli Open Space sulla cultura, sulla filiera del cibo, sui territori e beni comuni, sul turismo e i trasporti. Ne abbiamo in realizzazione, ne abbiamo in programma uno che si realizzerà il 5 gennaio a Cagliari. Da i host arrivano importanti indicazioni. Innanzitutto c'è un rapporto molto diretto con le persone. È capitato spesso facendo i host che la gente venisse dicendo siamo venuti per ascoltare e invece siamo stati ascoltati. C'è un rapporto molto diretto, le persone sono dei portatori di interesse, portano delle idee, delle elaborazioni e queste elaborazioni poi costituiscono il fulcro del programma di Sardegna Possibile. Posso fare un piccolo esempio. Abbiamo fatto l'host sulla cultura nurachi. Si è sentita tantissimo l'esigenza da parte dei cittadini della necessità di avere più indicazioni e più possibilità di parlare la lingua sarda, di conoscere la storia della Sardegna nelle scuole. L'insegnamento della lingua e della storia sarda è una cosa richiestissima. Eppure non si trovano i programmi ministeriali.